Anche se l'indagine per omicidio resta nelle mani della magistratura ordinaria, si sta interessando anche la DDA di Catanzaro all'omicidio di Domenico Stambe, 55 anni, autotrasportatore e commerciante di pneumatici, avvenuto sabato mattina dinanzi alla sua abitazione, incontrato a Rombola a Sant'Angelo di Girocarne. Probabilmente due o tre colpi di fucile caricati a pallettoni, sparati da distanza ravvicinata, gli hanno sfigurato il volto. L'omicida ha sparato per uccidere. La vittima non ha avuto scampo, con tutta probabilità ha visto il suo assassino e forse non si aspettava che facesse fuoco. Forse gli ha addirittura aperto il cancello, oppure il killer lo ha forzato per entrare e lui se ne è accorto. Fatto sta che poco prima delle otto Stambe era già morto. Scatta l'allarme. La zona si trova in aperta campagna e a poche centinaia di metri abitano i due fratelli. L'equipe del 118, allertata dai carabinieri alle otto e un quarto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Domenico Stambe, noto alle forze dell'ordine e per via di alcuni piccoli precedenti di polizia, svolgeva l'attività di autotrasportatore, provvedendo personalmente alla consegna dei pneumatici che commercializzava. Era divorziato e aveva tre figli, uno dei quali fu arrestato qualche anno fa al nord con l'accusa di spaccia di droga, venendo poi assolto. I suoi fratelli Angelo e Nazareno, rispettivamente di 40 e 47 anni, erano stati fermati qualche anno fa dal carabiniere del comando provinciale di Asti a bordo di una Fiat Ducato, con all'interno armi di vario genere, un vero e proprio arsenale composto da 20 fucili, 13 pistole e relativo munizionamento. Probabilmente, anche per tutte queste coincidenze, non si esclude che questo delitto possa essere inquadrato in una vecchia faida che aveva interessato proprio la famiglia della vittima, che viene inquadrata dagli inquirenti vicino ad ambienti della criminalità organizzata. Intanto, nel weekend, i carabinieri hanno effettuato numerose perquisizioni, interrogando parecchie persone, in attesa che l'autopsia, prevista per domani, possa chiarire alcuni aspetti sulla modalità dell'omicidio.